...diffuso nel nostro territorio quella di pace da tutti i balconi, con l'augurio che la pace sia un bene mondiale. Ecco, ciao Giovanni, abbiamo queste bandiere? Sì, abbiamo pace a tutti i balconi, abbiamo portato un bandiere della pace in tutta la Sicilia, a maggior ragione perché è la nostra città. Oggi noi vogliamo fare dono a Frate Carlo, a qualche rappresentante della tenda di San Camillo, come segno del nostro distenso civile e non violento alla guerra. La guerra come modo per risolvere le controversie internazionali. Noi con gli scout e la GESI stiamo ribadendo che noi vogliamo discutere, vogliamo sottolineare l'articolo 11 della nostra Costituzione, dare il ripudio alla guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali. Come potete vedere a Decireale, a Catania, a Sant'Antonio, a Cicastello, abbiamo tanti incontri per sottolineare i motivi, perché noi vogliamo riflettere, vogliamo dare questo segno che è la bandiera. È un segno che ci accomuna tutti, cattolici e laici, infatti i sottoscrittori di questa iniziativa sono insieme a cattolici e laici. E con questo gesto, la bandiera, diamo il nostro segno. Sono molte a macchia di trovato queste bandiere, però sono un segno forte di resistenza alla guerra. E vorremmo fare dono ai camigliani. Bene. Questo gesto, questa bandiera, questo messaggio di pazzo. La bandiera viene da appendere al vostro balcone, sia la di San Camillo o quanto la appenderemo al Via Genuardi. E così vorremmo vedere che anche San Camillo sono tutti contro la guerra. Grazie. Grazie. Un applauso. Grazie. Bene. A questo punto, signori e signori... Grazie. 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 Grazie.